Ciao da Nicoletta, rieccoci sempre con le nostre pilloline, quella di oggi la sento, la vivo come particolarmente profonda e penetrante, ti chiedo veramente di cuore di ascoltare questa frase, ascolta, dona ali alle persone che ami per volare, dona delle radici per poter tornare e dona dei motivi per rimanere, questa è una frase molto molto impattante, molto incisiva perché pensate a volte nei rapporti come si pretende dall'altro qualcosa che non è giusto pretendere, pensate quante volte succede che non si accoglie l'altro, può essere un compagno, può essere un collaboratore, può essere chiunque nella sua interezza, mettendo nell'altro e creando nell'altro aspettative che non corrispondono a ciò che la persona vuole, amalo per quello che è, ama la persona per ciò che è, accoglila, dando davvero a questa persona le ali, la libertà di riconoscere se stesso e di volare verso la sua strada, dalle anche a questa persona mi raccomando delle radici, delle radici forti che lo possano legare al contesto a te per poter poi tornare e dare a questa persona poi dei motivi per rimanere, ecco è una cosa che sto chiedendo tanto alla vita in tutti i sensi perché penso che sia determinante la libertà, le radici e la motivazione tale per cui radici e libertà possano congiungersi in un colloquio forte e con questa riflessione vorrei davvero che pensassi a questo, stai donando le ali o le stai togliendo senza rendertene conto? Stai donando radici o crea insicurezza? hai motivi forti o sei un turbinio in tempesta? A te la risposta? Dona ali che diano libertà, radici per tornare e assolutamente motivazioni per rimanere. E da Nicoletta è tutto, un bacione a te la risposta, alla prossima!